lissa oggi sono venuta qui nella tua cameretta perché volevo vedere la tua collezione di peluche è vero che ne hai tanti? fammi un po' vedere allora qui al primo piano è già già vedo che è bene affollato al secondo piano anche ci sono gattini un coniglio un altro pupazzo qui sotto stanno veramente stretti e qua sotto anche ma oltre a questi secondo me tu ne hai altri è vero? dove? fammi vedere mamma mia quanti? ma tutti questi peluche da quant'è che non fanno un bel bagnetto? da tanto tempo da tanto tempo e poi adesso arriva anche Bia a giocarci senti che ne dici se facciamo un bel bagnetto a tutti i tuoi peluche oggi? sì sì allora lissa metti qui dentro tutti i peluche che vuoi lavare però attenta a non metterci anche ok e gli altri? è il pallone finiti? nooo ce ne sono ancora alcuni? abbiamo riempito tutta la cesta ma andiamo a vedere se ce ne ha qualcuno anche daniel dai porta la cesta in camera di daniel ce la fai a portarla? sì daniel hai qualche peluche da dare ad alissa? da lavare? sì sì oggi? 400 mila grazie mamma mia ma perché abbiamo tutti questi peluche? wow l'abbiamo riempita completamente ma ci entreranno tutti quanti in lavatrice? dai andiamo a vedere eeeh issa faccio io come fai? è troppo pesante ciao eccoci arrivati adesso laveremo tutti i nostri peluche dentro questa bellissima lavatrice lg twin wash allora alissa adesso ti spiego un attimo le regole in questo cestello grande dovrai metterci i peluche colorati invece i peluche bianchi andranno messi qui nella mini wash così li laveremo tutti e due contemporaneamente pronta? dai vediamo quello dove va colorato allora dove lo metti? bravissima continua bravissima 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 e adesso prendi colorati Tocca a voi, eh? Eh sì! Dentro! Ma c'entrano tutti? Sì! Tutti, tutti questi! Sì! Mega bagnetto! È bianco! È bianco! Allora, lo mettiamo qui! Ecco fatto! Gattino! Tre, quattro... Vedete che ci entravano tutti? Tutti ci sono entrati! Ora, li facciamo partire! Chiudi! Ok, adesso il detersivo... E' quello? E' quello? Adesso questo! Bisogna aprire... Bisogna aprire... Ecco fatto! Chiuso! Ecco fatto! Abbiamo fatto il bagnetto! E adesso torneremo quando avranno finito! Sì! Buon bagnetto! Adesso andiamo ad aspettare... Adesso andiamo ad aspettare... La lavatrice ci ha informati che ha finito e quindi adesso apriamo! Eccoli qui! Eccoli qui! Tutti puliti! Sono profumati! Andiamo! Sì, però sono anche bagnante! Eh beh, certo! Si devono asciugare adesso! Mettili tutti qui! Senti, ma adesso... Visto che sei così brava... Te le faccio fare sempre a te le lavatrici, va bene? No! E che sono le tue cose? Lavi? Eh, non puoi lavare anche le mie? No! Perché io... Perché io... Fa anche le cose di Daniel! Perché c'era finita a parlare quando ero bambini piccoli! Di quando eri piccola questo! Anzi, era di quando Daniel era piccolo quello io! No, era di quando io ero! Era di quando era piccolo Daniel! Ma io, io, io! Ma perché dopo te l'ha regalato a te e è diventato tuo! Dai! Togli anche il resto che voglio vedere come sono venuti quelli bianchi! E alzare! Eccoli là! Eccoli qua! Un bambone gigantone! Eccoli! Come sono venuti? Mmm, profumano! Ho la torre! Finito! Sono tutti puliti adesso! Senti questo che carino! E non sono tanto bagnati perché i pelusci in realtà si asciugano molto in fretta, eh! Perché li ha centrifugati bene e quindi se guardi bene non sono molto bagnati, vedi? Quasi asciutti! Perciò adesso li andiamo a rimettere al loro posto! E al piano lei! Oh scusa mia! Ed ecco qui tutti i pelusci lavati! Li ho messi sul letto di Alissa! Ma dov'è Alissa? Voi l'avete vista? Eccola! Ma eri diventata un pelusci anche tu! Sì! Ecco! E adesso li abbiamo sporcati di nuovo! No! Adesso li dobbiamo rilavare! Dai, rimettili in lavatrice! No! Senti Alì, ti sei divertita a lavarli? Sì! Ti piace che adesso sono tutti belli profumati? Sì! Ti piace che adesso li devi tutti riordinare e mettere a posto? No! Devi fare te! Ma come? Io mi racconto l'altro! Non dovrei se li fai, eh! Ma tu sei troppo furbetta! No, no, ti nascolto! Vabbè, dai, adesso ti aiuto! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Noi vi salutiamo! Ciao! Ciao! Ciao anche da tutti i pelusci! Ciao!